rieccoci con le parole impossibili e siccome mi fate sempre disperare questa volta vi do un piccolo aiutino si tratta di una parola esplosiva che cos'è l'ogiva e su che ve l'ho praticamente detto potrebbe essere il pantheon sul pantheon quella fessura quell'apertura che sopra qualcosa che c'entra con l'arte un oggetto scolpito su un no viene dal latino dal greco quelle finestre d'arco ogiva qualcosa con la vista una parte di qualche statua non so gli obelischio qualcosa di antico qualcosa di non so delle cappelle ah niente da fare ci voglio sempre io dicesi ogiva la parte anteriore di un missile una bomba o una cartuccia eppure ve l'avevo detto parola è esplosiva vabbè ci vediamo alla prossima voi però non vi fate trovare impreparate ma da dove le prende queste parole di internet a internet